Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, scusate per la luce ma sono abbagliata praticamente. In questo nuovo video voglio aiutare, diciamo aiutare tra virgolette, alcuni dei miei iscritti che mi hanno richiesto questo video. Questo video è stato scelto grazie appunto ai miei iscritti, quindi se vuoi anche tu richiedermi un video personalizzato o vuoi che realizzi un video salutandoti, citandoti, ti devi iscrivervi al canale, mettere un bel like, lasciare un commentino qui sotto e attivare le notizie, che ovviamente nel commentino puoi scrivermi quello che vuoi, sia un commento riferito al video sia un commento col prossimo video richiesta che hai bisogno che ti realizzi. Per prima cosa vado a spazzolare i capelli con un pettine, non con una spazzola ma con un pettine. Poi dopo utilizzo un creaclip che è questo aggeggio con una livella che vi dirà se state tagliando dritto oppure storto, quindi cerco di capire bene come mi metto a livella e dopodiché mi farò aiutare dalla macchinetta per andare a tagliarli. Ora cerco di capire bene se sono dritto o no, è molto importante. E ora vado a tagliarli con una macchinetta e appunto taglio. Grazie per la visione! Una volta regolato la lunghezza dietro vado a tagliare la fangetta e la scalo inclinando semplicemente la macchinetta e in questo modo ottengo una fangetta scalata. Ovviamente non faccio cose precise come traggia perché non ne sono una parrucchiera, è più difficile avere un risultato molto dritto. E poi utilizzo queste forbici per andare a spoltire in modo tale che non dà quell'effetto pieno brutto ma appunto ha questo effetto capello fluente, capello morbido e non arruffato. E lascio tutti i dettagli nell'info box se volete riperire i prodotti che sto utilizzando. Ed ecco qui il risultato finale, bellissimo! Alla prossima!